Al Teatro Dante di Campi Bisenzio, sesto giorno di prove per Benvenuti in Casa Gori, che andrà in scena dal 17 al 19 dicembre 2010 ovviamente qui al Teatro Dante. Qual è stata appunto la sua impressione su questi primi giorni di prove con questi attori non professionisti? Ma buona, diciamo così. Ci dobbiamo conoscere, ci dobbiamo un attimino tarare, perché appunto è una metodologia mia, una metodologia che loro non conoscevano, per cui c'è un attimo di acclimatazione. Oltretutto ci è servito molto questo lavoro a tavolino per riscrivere in parte la pièce teatrale, perché un conto è farla da solo e un conto è farla fare a dieci persone diverse. Dico dieci perché anche la Samantha, pur non essendo nella carrozzina, agisce come se fosse presente, insomma, in qualche modo. Quindi la cosa più bella, più emozionante e affascinante, ma anche la più complicata, è quella di riadattare un testo recitato in forma di monologo a un dialogo serratissimo tra dieci persone. Però insomma, ecco, questo aggiunge linfa, novità, spirito, ritmo, ed è una riscrittura che era giustissimo e doverosissimo fare, insomma. Prove che si svolgeranno intorno a un tavolo. Ma, insomma, per adesso siamo qui negli uffici dell'Accademia dei Perseveranti, qui al Teatro Dante, perché c'è questo tavolo, anche se poi in scena non ci sarà niente, ci sarà soltanto, spero, la bravura degli attori. Ci saranno delle sedie sulle quali si siederanno tutti loro e ci cercherà di fare un viaggio immaginario in una casa che non esiste immaginaria, ma basandosi proprio solo ed esclusivamente sui ritmi e sulla vitalità del linguaggio. Possiamo dirgli, in tempi di crisi c'è un'ulteriore possibilità per i talenti, anche sullo scovare i talenti. Per me è stato un viaggio bellissimo, questo dei provini, che voi tra l'altro avete seguito, siete stati molto carini a starci vicini, perché mi ha dato la possibilità di conoscere tanta gente, di sentire delle storie, di conoscere dei nomi, di vedere delle facce. È stato molto importante. Sì, l'augurio che ci facciamo qui al Dante, a noi stessi, è quello di che questa cosa sia l'inizio di qualcosa di più ampio, di più sedio, di più articolato, di più stanziale anche. Non ti dico costruire una nuova compagnia del Teatro Dante, perché sarebbe prematuro parlarne. Però certamente, quando te vai in un teatro e in questo teatro tu produci una cosa di questa importanza, sperando che vada bene, sicuramente uno strascico si lascia. Oggi io parlavo col sindaco, con il Chini, con Adriano, era molto emozionato del fatto che qui stesse accadendo questo evento, insomma, in qualche modo. A me mi ha fatto piacere, insomma, che lui la pensassi in questo modo e che avesse vibrazioni nella voce, che non erano le vibrazioni di un politico, ma erano le vibrazioni di una persona che dice, sì, in effetti è un momento molto strano per l'Italia, è un momento molto strano anche per Campi, perché Campi è in Italia. E l'idea che qui ci sia della vita che nasce e cresce, conforta, dà conforto. E ci sembra di essere più utili per noi stessi, ma anche un po' più utili per la comunità che in qualche modo ci ospita. Appunto, una comunità che ci ospita, una comunità che cresce sempre più attiva anche nella vita culturale, proprio in questi giorni, qui al Teatro Dante, di cui ricordiamo Alessandro Benvenuti, è il direttore artistico. Una a due giorni di Fligrano, il progetto della Regione Toscana, il grande protagonista, Niccolò Fabi. Anche qui uno spettacolo che nasce insieme ai giovani. Noi oggi abbiamo parlato con Niccolò per mezz'ora, in maniera calorosa, vitale. E infatti gli abbiamo proposto, dicono, Niccolò, qua noi siamo molto attenti a tutto quello che è il fenomeno della musica, perché è un potentissimo linguaggio che coinvolge soprattutto i giovani, ma anche chi giovane vuole rimanere fino a che un muore. Per cui lui era interessato, una premessa, l'anno prossimo io per esempio proporrò, credo che porterò, proporrò, è più corretto dire, per esempio anche questa esperienza molto bella, che Chiara e io, Chiara e mia moglie, ma insomma, mi aiuta, mi aiuto regista, abbiamo fatto per esempio con Simone Cristicchi, che conosce tra l'altro il Teatro Dante, e che verrà anche a vedere i benvenuti in Casagori, abbiamo fatto questo spettacolo veramente bello sulle memorie della Seconda Guerra Mondiale, commovente, divertente, in ottava, quindi insomma una roba... e lo proporrò anche qui, proprio per far capire che questa è una casa anche per i musicisti, o per tutti quei musicisti che in qualche modo sognano, come faccio io con Sio Birillo, farò un modo diverso di proporre la musica a teatro, però facendo leva proprio su questo potente linguaggio, che è comune a tutti, chi è che non canta anche per la strada o che non canticchia mentre si fa il bagno, voglio dire. Quindi è importante questo aspetto e noi lo stiamo curando perché lo riteniamo appunto doveroso e anche portatore di cose positive.